C'è anche il Vescovo di Arezzo Riccardo Fontana. Tra coloro che hanno contratto il Covid in provincia di Arezzo, la nota ufficiale arriva dalla Curia Vescovile. Sua eccellenza sta bene in quarantena e con sintomi lievi. Fontana aveva già ricevuto la terza dose di vaccino. Oggi i nuovi positivi sono 1.263 nella retina in tutta, la ASL Toscana a sud-est, Arezzo, Siena e Grosseto sono 2.902. I guariti quasi si equivalgono nelle ultime 24 ore, sono in tutto 1.258. La fascia di età più colpita rimane quella scolastica, 0.18. In tutto i nuovi positivi in questa fascia sono 3.33. Arezzo rimane il comune più colpito, 295 nuovi positivi. Infine il dato ospedaliero che continua a preoccupare. 41 i pazienti ricoverati in bolla Covid, 11 in terapia intensiva. Il 65% di loro non è vaccinato.